è stato un anno particolare perché avevamo ancora paura del covid e speriamo che sia finito ok mi sa che questo a voce normale ce la faccio quindi un grazie a tutti voi il prossimo anno siamo pronti per ripartire siamo arrivati alle conclusioni di questi finali adesso ci saranno le parti finali insomma fino alla finale regionale io vi invidio io vi invidio perché l'età almeno il campionato mi dice ma visto che io per fare da qua a là sono partito ieri mattina sono arrivato ieri complimenti veramente una partita degnata una partita veramente quindi io passerei subito a fare la premiazione mi piace quando mi valorizzate secondo i classificati che hanno giocato prima secondo i classificati allora Comini vieni a buona premiare quanti si mangi allora secondo i classificati leggeretti di arte ballon d'our il gioco è il gioco Grazie a tutti, grazie a tutti. I primi classificanti, la valanghe. Allora, forse non sapete, ma quello che fa le coppe, che il vice, è interista. Le approvate tutte. Quindi abbiamo... Lui è l'unico che fa le foto da dietro le... E sta venendo benissimo. Allora, adesso passiamo... Meno giovani. Meno giovani. Meno giovani. Applausi. 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 Marco Mario, eh. Un uomo in magia. Scusate, Cosignano, quanti am Precisativo sono anche con noi? 3, 4, 5, però negli ultimi anni è sempre finale, almeno questa l'avete vinta. Primo classificato, grazie, grazie mille, fatevi la doccia che è più l'organizzazione, mi sa che qualcosa mi piace uscire a prestare. Grazie mille.